Gli appuntamenti sono due, il 28 e il 29 giugno, organizzati da Meteonlus, l'associazione da me preseduta in collaborazione con Agius, preseduta all'avvocato Francesco Leone. Noi ci occupiamo di bambini da tantissimi anni, i bambini quelli martoriati, quelle vittime di ogni abuso, di ogni miseria, vittime della guerra, sono i figli di nessuno. Noi abbiamo deciso dall'inizio della nostra attività, dello nostro impegno, di guardare, attenzionare e anche sostenerli. Abbiamo chiesto a Yusif Latifi Yeral, un regista cantastore iracheno che da tanti anni vive nella nostra città, di realizzare un video che possa raccontare la prole di tutti. E così noi presenteremo giorno 28 a Palazzo dei Normanni alle 16.30 il video di Yusif. Seguirà una conference, parteciperà l'avvocato Leone, Rajendra Bitraia, mediatore culturale, Valentina Chinnici, presidente Cidi, ma anche Momo Sisè, un docente ivoriano dell'università in Costa d'Avorio. L'indomani invece è un altro momento ed è quello atteso perché in questa organizzazione poi mi sono resa conto che il momento più bello, con più appilla, è sicuramente la festa che si svolgerà dalle 9.30 alle 12 nei giardini reali di Palazzo dei Normanni. È una festa multiculturale, bambini di diversa etnia parteciperà alla comunità del Ghana, ma anche comunità dell'Est Europa, i bambini chiaramente del nostro territorio, noi partiamo sempre dal nostro vicino di casa. Ci saranno dolci, torte, gelati, ma anche tanto gioco. Per questo ringraziamo la Fondazione Federico II, diretta da Patrizia Monterosso. Questo è il mondo che noi vogliamo. Noi dall'inizio abbiamo sempre diffuso e diffondiamo conoscenza, ma non dimentichiamo mai che lo svago, la felicità, sono un diritto inalienabile, soprattutto dei bambini. Allora dobbiamo vederli felici e farli sorridere. E questi appunto sono i prossimi appuntamenti di Mete Onlus. Mentre martedì prossimo c'è un importante appuntamento, stavolta istituzionale. Mete e anche istituzioni. Ricordiamo che appena è stata ammessa a Lunar la presidenza del Consiglio dei Ministri. Martedì io sarò audita in Commissione dei Diritti Umani al Senato della Repubblica per il disegno di legge, due disegni di legge che riguardano i matrimoni forzati. Ricordiamo la nostra comunità, sono bambina e non una sposa. Nel mese di marzo sono stata audita in Commissione Giustizia, sempre al Senato. L'augurio è che davvero questi due disegni di legge arrivano ad essere approvati e soprattutto all'applicabilità. Una legge è giusto farla, poi bisogna applicarla.